Diamo al benvenuto nella categoria giovani a Veronica. Ciao a tutti. Non vedi l'ora di salire sul palco, di esibirti? Sì, 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 anche perché sto aspettando veramente da troppo tempo questo momento e finalmente oggi è arrivato, mandando via anche le nuvole perché oggi qua c'è una giornata veramente sembra arrivata la primavera. I nuvole che passano, che è poi la tua canzone, che sono andate via proprio per questa sera. Eh sì, per questa sera sì, ci hanno regalato il sole. E niente, che ti posso dire? Come stai affrontando? Questa emozione, questo palco che fa tremare anche le gambe dei grandi. Tu sei molto energica, si vede, hai la carica giusta. Ma perché sono felice, sono veramente felice di essere qui. Per me è un sogno che si realizza, non tanto staremo insieme, ma proprio cantare, riuscire a calcare un palco come quello che è stato spettacolo, veramente delle canzoni più belle italiane. Quindi per me sarà un onore, davvero. Ti abbiamo conosciuto a The Voice, la tua insegnante, mentore, era Raffaella Carrà, grande protagonista della Kermess di quest'anno. L'hai sentita? Ti ha fatto in bocca al lupo? Non ancora non l'ho sentita per telefono, però mi ha mandato un messaggio su Whatsapp. No, sempre avanti la Raffa. Ma lei è un mito, veramente. Non ti chiama, ti manda messaggi su Whatsapp. Con scritto, indomina un po' Veronica tutta la vita. Cioè, questo vale più di tutti i consigli. No, connessione, davvero. Bellissimo. Davvero. E invece so che tra i tuoi miti musicali c'è Gaetano Donizzetti. Così, insomma. Sì. Eh sì, dicono così, eh. Con... perché l'autore di... Sì, sì, sì. Ma io ho scelto un po' questo nome perché per me la musica italiana è nata un po' a The Voice, perché io ho avuto sempre una cultura molto, come dire, anglosassone, ecco, ti dico un po' così, ho sempre ascoltato da Ray Charles, Stevie Wonder, le Zeppelin, Dorst, Nirvana, tutto un po' questa roba qua. Però il mio approccio con la musica italiana è stata proprio a The Voice, dove tra l'altro ho scoperto che mi piace anche scrivere in italiano. Quindi ho messo Gaetano per questo, perché lui è stato... è considerato un po' colui che ha scritto la prima vera canzone italiana, ecco. Hai calcato The Voice, quindi davvero un'emozione dentro l'altra. È stata una grandissima palestra, ti ha davvero consacrato perché hai tantissimi fan, tanti hanno tifato per te. Sì. E quindi, insomma, sei prontissima all'Ariston. Come sarà il tuo look? Ah, il look sicuramente rispecchierà la canzone. Cioè, voglio veramente che ogni... anche il singolo capello parli del tema che è la canzone, cioè l'amore. È una canzone ovviamente romantica, ma realista, nel senso che... cioè, non voglio perdere di vista la realtà delle cose che a volte è molto dura. Però grazie a questo io ho capito che l'amore, per esempio, salva le persone. Poi vabbè, ci sono tanti tipi di amore. Si parla nelle canzoni di amore geloso, amore possessivo. Questo di cui parla nuvole che passano è amore puro. Un po' quello che si sognava da piccole. Un po' quello. Quello quasi delle favole. Quello delle favole, ecco. Poi si perde, non lo so, la speranza che possa esistere davvero, perché la realtà è veramente tanto dura e è difficile pensare che l'amore sia al centro di ogni cosa, ma in realtà è l'unica cosa che può far passare le nuvole, ecco. Diciamo così. Ieri i nostri ascoltatori hanno detto che i giovani hanno cantato troppo tardi. C'è stata un po' questa polemica. Cosa ne pensi? Ma io spero che oggi si regoli in un po', ma più che altro perché i giovani hanno il diritto come tutti, no? Vabbè, io questo ovviamente non mi lamento assolutamente perché per me saranno tre minuti e mezzo di fuoco, però ecco, sì, se si accelerasse i tempi e si dedicasse più tempo alla musica che non ha i discorsi, ecco, sarebbe bello per tutti, penso. Però quest'anno c'è una novità per tutti voi giovani, un momento anche il sabato sera. Sì, 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 sì. Qualche minuto strappato così, però dai ce l'abbiamo fatta. Ringraziamo Veronica. Grazie a voi, grazie mille.